I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato due persone residenti a Torchiara ed Agropoli per spaccio di stupefacenti. I due si apprestavano a vendere cocaina, ascisce e marijuana nella zona di Torchiara, nei comuni limitrofi. L'attività di indagine ha consentito inoltre di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di marijuana. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria a disposizione dell'autorità giudiziaria.